Alla mensa con gioia si chiama così il progetto che vede i protagonisti e gli studenti dell'istituto alberghiero di Roccaraso che per il secondo anno consecutivo si sono messi dietro ai fornelli per preparare pranzo agli ospiti della mensa della Caritas diocesana di Summona Valva. Un'iniziativa che coniuga l'espressione delle singole abilità degli studenti con la solidarietà. Il tutto a ridosso del Natale, guidati dai loro insegnanti di cucina e di religione per Luigi Casciola, Simona Lagatta, gli studenti hanno curato con impegno e passione la preparazione delle portate, l'allestimento della sala e servizio a tavola. Presenti la dirigente scolastica dell'istituto Cinzia D'Altorio, il vescovo Michele Fusco, il direttore dell'equip e i volontari della Caritas diocesana. Un momento di serenità, di gioia in vista delle prossime feste natalizie, sottolineano dalla Caritas.